Signori buonasera, buonasera, ebbè questa è un'accoglienza veramente speciale, è l'accoglienza e l'entusiasmo con cui il pubblico del Novi Sad di Modena, grazie, grazie per il coro, un pubblico enorme, un pubblico che ha riempito questo spazio fino all'inverosimile, ragazzi che erano qui fino a questo pomeriggio sotto il sole, ad aspettare in piedi l'inizio di questo grande avvenimento, è per il quinto anno consecutivo, è un avvenimento che coinvolge un po' tutto il mondo, Pavarotti and Friends, un appuntamento che ogni anno si rinnova a Modena portando qui la musica più importante che ci sia al mondo, i più grandi artisti, che solo il grande carisma, la grande personalità, la grande forza di Luciano Pavarotti riesce a coinvolgere e a coinvolgere tutti su questo palcoscenico ogni anno per un grande avvenimento di solidarietà, perché accanto alla musica, accanto all'avvenimento pop, rock, c'è anche questo, c'è la solidarietà che quest'anno si indirizza a cercare di portare un aiuto e un sollievo ancora una volta dei bambini, andiamo in Liberia quest'anno e parliamo del problema dei bambini travolti dalla terribile guerra civile che ha insanguinato la Liberia per sette anni, terminata la guerra civile non si sono richiuse però le ferite di questo paese e ai bambini rimasti orfani, ai bambini feriti, ai bambini privati della gioia della loro infanzia, Pavarotti con i suoi amici e con War Child vuole portare un conforto e un aiuto creando un villaggio, ma ne parleremo più avanti e anzi, vogliamo parlarne subito proprio con colui che è l'anima, il cuore, il motore di questa grande festa della musica e della solidarietà, il nostro padrone di casa Luciano Pavarotti riprovo, riprovo a chiamare, vedo che eccolo c'è Luciano eccolo qui allora Luciano Pavarotti dicevo il cuore di questo avvenimento, quest'anno la solidarietà per i bambini della Liberia si vuole fare un villaggio nella Liberia, una nazione flagellata da sette anni di guerra intestina, spero che tutti voi sappiate apprezzare questo concerto dedicato a questi ragazzi, grazie grazie mille, grazie e allora vi dico subito, approfittando della presenza di Luciano, che noi apriamo adesso un numero verde, che adesso vedrete scorrere in sovrimpressione sul televisore a casa e che è il numero verde 167001919 tutti coloro che possedono una carta di credito, Visa, Mastercard, carta sì possono fare la loro donazione durante tutta la durata del concerto vi preghiamo, a nome di Luciano Pavarotti e dei suoi numerosissimi amici di contribuire a questa maratona di solidarietà lo scopo è quello di alleviare le sofferenze di bambini che troppo hanno sofferto e ingiustamente veramente non meritano di essere così derubati della loro vita per cui fino a mezzanotte di stasera telefonate al numero verde e contribuite anche voi gli amici di Luciano questa sera, vuoi darci alcuni nomi? ciao, ciao a tutti arrivederci andiamo al lavoro, Luciano allora, mentre Luciano ci saluta e si prepara e si va a concentrare io vi dico che sarà una serata con grandi star voi sapete, aspettate le Spice Girls aspettate... mi assordate aspettate Zucchero aspettate Pino Daniele aspettate Eros Ramazzotti Bon Jovi Celine Dion grazie a tutti grazie a tutti Grazie.